Sossio Ruto e Ursula Bennardo lanciano un appello sui social per essere aiutati. Il motivo? Ursula ha annunciato tramite il suo profilo Instagram di aver subito un furto d'identità. Vi devo chiedere un enorme favore. C'è un profilo che si spaccia per me e Sossio, fingono proprio di essere noi anche nei messaggi con gli audio. Queste le parole di Ursula in un video pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram. Stando alle parole dell'ex dama del trono over di uomini e donne non si tratta di un semplice profilo fake o di una fanpage, ma di una vera e propria inflazione al loro discapito. Forse la ritrovata popolarità ha fatto finire la coppia nel mirino di alcuni profili fake che starebbero sfruttando in modo illecito il loro nome, spacciandosi per loro e promettendo presunti lavori. Fingono e promettono lavoro. Io sporgerò denuncia domani. Ho già raccolto tutto il materiale, però nel frattempo mi serve il vostro aiuto per bloccare il profilo. Fatelo subito. Mi stanno arrivando tantissimi messaggi di gente che è stata truffata. Altra gente potrebbe essere presa in giro. Vi ringrazio per l'aiuto che mi avete dato sperando di risolvere subito questa situazione ha concluso la compagna di Sossio. L'allarme lanciato dalla Bernardo e Aruta arriva in un momento molto delicato per il nostro paese, già chiamato a combattere le numerose bufale causate dall'emergenza sanitaria del coronavirus. Grazie a tutti.